qui alle dory news è scoppiata l'estate colpa di annalisa ah bella italiana giovane era lei eh sì ma non avevi indovinato no ma era facile guardiamolo in azione gente di mare che se ne va dove gli pare dove non sa avete sbagliato studio finalmente avete deciso di cambiare lavoro seguiamo i trend della rete noi e sì adesso gli chef sono sulla cresta dell'onda dimmi che non era una battuta ti prego no era un indizio ragazzi partecipate subito al concorso trovadori sul web e provate a vincere almeno voi dateci questa soddisfazione ci vediamo lunedì con le dory news partecipa al concorso di trovadori sul web indovina dove sono ogni settimana e vinci un oceano di premi nuota veloce sul sito in sovraimpressione e non dimenticare che che cosa oh ah il film no no Grazie a tutti.